Presidente del Consiglio, magnifico Rettore, autorità religiose, civili e militari, professoresse e professori, studentesse e studenti, personale tecnico e amministrativo, permettetemi di iniziare con un abbraccio che parte da me, coinvolgendo 50.000 studenti, la famiglia di Niccolò, ai suoi colleghi, a tutti gli studenti che ha avuto l'onore di rappresentare. La rappresentanza è questo, è un onore ed è un onere. L'università, come tutte le istituzioni, è un corpo vivo e come ogni corpo necessita della collaborazione di tutti i suoi organi vitali, una collaborazione che come il nome degli universitari e come rappresentanze studentesche abbiamo portato avanti con l'intento di tutelare, garantire e allargare i diritti degli studenti, una collaborazione che abbiamo sempre voluto leale, trasparente e fedele ai suoi ideali. Come parte attiva di questa università, sosteniamo nostro l'impegno per concorrere al miglioramento e al progresso di questa istituzione. E mai, come in questa fase storica, diventa necessaria la collaborazione tra i soggetti che compongono il mondo universitario, affinché le risorse vengano utilizzate in maniera efficiente, affinché il diritto allo studio non subisca ingiuste mutilazioni. Gli studenti sono orgogliosi di essere parte della gestione delle risorse di questa comunità, nel rispetto e nella piena autonomia dei propri ruoli, nell'importanza del dialogo e del conflitto, sano, politico e razionale. Ciò nonostante appare sempre più difficile mantenere questi propositi, in un contesto nazionale in cui i continui tagli all'istruzione portano l'Italia a essere terz'ultima in Europa per investimenti. Una disastrosa strada che conduce unicamente a un peggioramento dei servizi per il diritto allo studio, sempre più difficile da mantenere, è una didattica costretta dai lacci di stretti vincoli di bilancio, a una minore efficienza dell'amministrazione e un'edilizia troppe volte pericolosamente precaria. In silenzio, al coperto, da sguardi indiscreti, dietro a sorrisi e grandi promesse, si lede il diritto all'istruzione, il più efficiente fra i nostri strumenti di miglioramento e di mobilità sociale, che per la sua stessa sopravvivenza necessita di finanziamenti strutturali. La mancanza dei tali finanziamenti nei bilanci statali comporta un danno alla crescita economica del nostro Paese, che vede pregiudicarsi sviluppo e benessere. L'istruzione universitaria è un patrimonio collettivo, un investimento strategico che concorre al benessere pubblico, è la storia a indicarci le conseguenze per le nazioni che si privano di questo vitale polmone di sviluppo e progresso. Attualmente non vediamo, da parte del personale politico di questo Paese, né le misure per invertire la rotta né la volontà di assumersi la propria responsabilità politica. Tutte le azioni che ricadono sotto la categoria dello spot, che sono occasionali, altro non sono che una misura palliativa, indice di un sistema al collasso. Oggi parliamo in questa sala, anche per i nostri coetanei, futuri neolareati che emigreranno, non trovando le adeguate possibilità materiali di utilizzare la propria formazione nel mondo del lavoro italiano e di aspirare alla propria autorealizzazione. Solo nel 2017 sono stati coinvolti 28.000 laureati. Secondo i dati di Stato, dal 2013 al 2017, il numero di espatriati è aumentato dal 41%, mentre i rimpati sono pressoché rimasti costanti. Le carenze economiche dell'Università ricadono sugli studenti, sui mezzi e sulle risorse dell'insegnamento. Questa voragine istituzionale non può e non deve essere colmata dai passi avanti fatti dalle istituzioni locali e regionali, azioni al tampone che hanno coinvolto anche il nostro territorio e sono fondamentali, ma che comunque non riusciranno a superire alle mancanze sistemiche del nostro sistema. E certamente gli studenti di Firenze non accetteranno che questa crisi strutturale venga risolta attraverso aumenti improvvisi della tassazione. La tassazione che deve rimanere progressiva, equa e stabile, così come non è giusto che le suddette difficoltà ricadano sulle spalle dei lavoratori. Oggi in presidio qua davanti ai quali esprimiamo la nostra solidarietà, l'università che vogliamo è la fornace della conoscenza, del sapere e della ricerca, ma sarebbe ingiusto non riconoscere neanche il valore sociale. Ogni aula, ogni struttura, ogni edificio è un solido collegamento tra la realtà universitaria e la città all'interno della quale è inserita. Con un contro alla nostra volontà, l'università è in primis anche luogo di socializzazione e di aggregazione e così deve essere e rimanere. Qui realtà diversi si formano, si confrontano e insieme si sviluppano. E proprio per questo è necessario garantire che questi luoghi escano anche dalla quotidianità delle lezioni, che siano a disposizione delle componenti studentesche, anche per altri fini formativi, quelli ludici, e che possono essere un punto di riferimento non solo per tutta la comunità universitaria, ma anche per la costellazione cittadina che gli orbita intorno. La funzione dell'università è avanguardia del sapere. È messa a repentaglio. Quelli che viviamo sono anni intensi e drammatici, attraversati da continue crisi che scuotono le fondamenta degli ordini sociali ed economici costituiti. Possiamo distintamente tracciare i contori di un tempo in cui le certezze ideologiche e materiali acquisite andranno perse. Alla minaccia dell'aniopia e dell'ignoranza differenza si oppongono la scienza e la riflessione sull'identità e sul ruolo della cittadinanza. L'università deve affrontare le sfide poste davanti alla comunità, ma per fare questo deve avere le risorse per porvi rimedio. Siamo qui per farci carico delle nostre responsabilità, perché l'università continua a essere luogo di riscatto e di sviluppo e ci auguriamo che chi è seduto in questa sala ed è insegnato dal mandato dei cittadini o dei suoi rappresentanti sia pronta a fare lo stesso. Grazie.